Ben ritrovati tutti quanti in una nuova puntata del Puzzillo del Sud. Chi vi parla è il vostro sempre più costruttore di ferrovie del West Puzzillo e oggi vediamo il tutorial e la recensione di Ticket to Ride Legacy, leggende del vecchio West. Prima di iniziare come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale così da rimanere aggiornati su tutti i contenuti che usciranno e non dimenticate di attivare la campanella. Inoltre se siete interessati all'acquisto di giochi da tavolo vi consiglio lo store Magic Merchant dove troverete tante promozioni e offerte. Per approfondire vi lascio il link in descrizione e nei commenti. Ticket to Ride Legacy, leggende del vecchio West, è un gioco da tavolo competitivo che può essere giocato sia come scenario singolo sia a campagna da 2 a 5 giocatori della durata indicativa di 20-90 minuti a partita, edito dalla Days of Wonder in italiano grazie ad Asmotia Italia che fra l'altro ringrazio tantissimo per avermi finito la copia per potervi fare questo video e infine gli autori ritrovate in descrizione. In questo gioco i giocatori saranno a capo di una delle compagnie ferroviarie nell'America del XIX secolo. La campagna inizierà nell'East Coast e poi man mano si espanderà su altri territori. Il nostro obiettivo non è solo quello di guadagnare con i vari viaggi e le tratte, ma anche di espandere la nostra compagnia cercando di bruciare sul tempo i nostri rivali. Che ne dite? Vi sentite pronti a lanciarvi nel vecchio West? Invece per quanto riguarda il genere abbiamo un aerogame e per quanto riguarda le meccaniche sono le classiche del gioco Ticket to Ride, ovvero gestione della propria mano di carte e sviluppo di tratte. I giocatori durante la partita dovranno recuperare o nuove carte treno, creando così le connessioni preferite tra le varie città, oppure recuperando nuove carte biglietto. Queste rappresenteranno gli obiettivi durante la partita e se riusciamo a soddisfarne i requisiti saranno punti positivi al conteggio finale, altrimenti saranno punti negativi. Tra le varie cose dovremo fare attenzione alle carte giornale, poiché metteranno in gioco degli eventi inaspettati e infine al termine della partita ovviamente chi ha più punti vittoria vince, ma poi questa proseguirà con la storia della campagna. Infatti il mazzo storia andrà ad aggiungere sempre nuove regole e inoltre i giocatori sbloccheranno sempre nuovi effetti e benefici. Prima di iniziare con il tutorial un paio di note, questo è completamente spoiler free, dunque vedrete la preparazione e le regole della primissima partita, ho fatto in modo che non siano visibili componenti nascosti e o da sbloccare e inoltre ci tenevo tantissimo a mostrarvi come si sistema la scatola una volta che si conclude una partita perché il gioco lascia la possibilità di giocare più partite consecutivamente oppure di rimettere a posto e recuperare successivamente. Detto ciò direi che ho parlato anche troppo e dunque via con il tutorial! Prepariamo la prima partita della campagna in due giocatori. Quando aprirete per la prima volta la scatola mi raccomando seguite tutte le istruzioni riportate da questo foglio, queste vi aiuteranno al meglio a sistemare tutti i componenti di gioco. Sistemato tutto prendiamo i vari pezzi che compongono il tabellone e mi raccomando non guardate cos'è contenuto qua sotto. Adesso che abbiamo tutti i pezzi disponibili li montiamo così da creare la mappa di gioco. Se mancano alcuni pezzi da questa mappa non vi preoccupate che è tutto nella norma. Fatto ciò ogni giocatore sceglie un colore e per prima cosa prende il box della compagnia insieme a tutti i vagoni di quel colore. Poi ognuno dei partecipanti gira il proprio box compagnia e controlla l'anno della partita che sta giocando. La prima partita si svolge nel 1865 e dunque ognuno dei presenti dovrà tenere solo 20 vagoni mentre gli altri verranno rimessi nella scatola. Adesso ogni giocatore prende la carta bonus della compagnia e la mette scoperta di fronte a sé. Poi viene formata la riserva generale composta dalle monete di vario taglio e poi ognuno dei partecipanti prende 5 monete che tiene vicino a sé. Adesso è il momento di sistemare tutte le carte treno e in una partita a due giocatori prendiamo 6 carte giornale e le aggiungiamo al mazzo dei treni. Poi da questo mazzo ognuno pesca 4 carte che andranno a formare la propria mano personale. Ovviamente ognuno può vedere la propria mano in qualsiasi momento ma mi raccomando tenetela nascosta ai vostri avversari. Poi sempre dal mazzo vengono pescate 5 carte che vengono tenute scoperte a portata di tutti i partecipanti. Se tra le 5 carte pescate vi sono 3 locomotive ovvero questo tipo di treno allora bisognerà scartarle e pescarne altre 5. Altra nota se tra le varie carte uscite vi sono dei giornali questi vengono scartati e poi vengono pescate nuove carte treno. Tutti gli scarti vengono rimescolati nel mazzetto e sappiate che la regola dei giornali vale anche per le carte della propria mano. Fatto ciò prendiamo tutte le carte biglietto le mescoliamo coperte e poi le posizioniamo su questo spazio della mappa di gioco. Poi ogni giocatore pesca 4 biglietti e una volta che questi vengono controllati in segreto il suo proprietario ne deve tenere almeno 2 ma volendo li può tenere tutti e 4 e invece le carte che ha scartato vengono messe in fondo al mazzetto. Poi viene preso il mazzo della storia e viene letta la parte narrativa insieme alle istruzioni da seguire. Quando la carta indicherà una pausa bisognerà smettere di leggere questo mazzo. Semplicemente lo mettete da parte e continuate con la preparazione. Adesso si prendono tutte le carte evento si mescolano coperte e poi vengono piazzate su questo spazio. Procedendo se trovate sul regolamento questi riquadri regola ignorateli poiché sono delle regole che verranno sbloccate con il proseguo della campagna. Infine si assegna casualmente la carta primo giocatore e fatto questo è tutto pronto per iniziare. Una partita a Ticket to Ride Leggende del Vecchio West si divide in turni. Inizia il primo giocatore e poi si prosegue in senso orario. Durante il proprio turno il giocatore attivo deve effettuare una delle tre azioni disponibili e vediamo la prima pescare carte treno. Con questa azione il giocatore può pescare due carte o tra quelle scoperte o dalla cima del mazzo e una volta che ha preso una carta questa viene subito rimpinguata. Se invece tra le carte scoperte vi ha una locomotiva allora il giocatore potrà decidere come al solito di pescare due carte treno oppure una carta locomotiva. Dunque se sceglie questa carta non potrà prenderne altre. Come spiegato nella preparazione se in un qualsiasi momento vi sono tre locomotive scoperte allora le cinque carte verranno subito scartate e rimpiazzate da altre cinque. Se tra le carte pescate vi sono dei giornali questi vengono scartati risolto il loro effetto e poi come al solito la carta viene sostituita. L'effetto è che si pesca la prima carta dal mazzo eventi e questa viene rivelata applicando i suoi effetti. Se vi è un fulmine sono effetti immediati mentre se non ha quel simbolo il suo effetto rimane attivo fino a quando la carta non verrà coperta da un altro evento. Prima di proseguire con l'approssimazione giusto un paio di note. Se il giocatore pesca una carta locomotiva dalla cima del mazzetto allora potrà prendere un'altra carta. In sostanza lui può pescarne soltanto una se prende la carta locomotiva tra le cinque scoperte. Inoltre se il mazzo di carte si esaurisce si prendono tutte le carte dagli scarti e si mescolano così da formare un nuovo mazzo di carte treno. Infine ognuno dei partecipanti non ha limite al numero di carte treno che può ottenere nella sua mano. Vediamo adesso la seconda azione pescare i biglietti. Il giocatore pesca tre carte dalla cima del mazzo biglietti e poi una volta che ha controllato il contenuto deve tenere almeno una di queste carte e se preferisce ne può ottenere due o tutte e tre. Queste carte rappresentano degli obiettivi che il giocatore dovrà cercare di completare durante la partita e se vi è riuscito ottiene le monete indicate mentre se non c'è riuscito allora le dovrà perdere. Vediamo adesso l'ultima azione controllare una linea. Innanzitutto una linea è un percorso tra due città che non è occupata da un qualsiasi giocatore ad esempio questa è una linea che non è più disponibile per il resto della partita mentre le altre sono tutte linee libere. Una tratta è composta da un numero di caselle che rappresentano il colore e il quantitativo di carte che servono per poterla completare. In sintesi una tratta va reclamata completamente e dunque non la si può prenotare in parte. Questo che vedete è un piazzamento illegale. Spieghiamo adesso qualche altra regola. Le tratte grigie sono sostanzialmente dei jolly quindi un giocatore vi può giocare un set di un qualsiasi colore. A esempio qui vi potrebbero andare tre carte blu o tre carte bianche mentre per quanto riguarda le linee doppie oppure triple ognuno dei giocatori può occupare solo una di queste linee quindi una volta che il giocatore avrà sviluppato quella tratta non potrà reclamarla nuovamente. Dunque questa che vedete è una mossa sbagliata. In merito alle tratte doppie vi è un'eccezione per quanto riguarda le partite in 2-3 giocatori ovvero se un qualsiasi giocatore reclama una delle due linee purtroppo l'altra diventa inaccessibile. Adesso che conoscete le regole di base vediamo nell'atto pratico come si reclama una tratta. Il giocatore attivo sceglie una qualsiasi linea sul tabellone di gioco dunque non vi deve essere per forza continuità con i vagoni già piazzati e una volta che ha scelto deve giocare le carte dalla propria mano. Facciamo che il blu vuole occupare questa linea da due blu quindi gioca dalla sua mano due carte blu oppure ricordatevi sempre che le carte locomotiva sono un jolly e sostituiscono qualsiasi colore. Una volta che ha scelto le carte dalla sua mano le rivela a tutti i giocatori e una volta che le carte sono state viste da tutti queste vengono scartate. Adesso il giocatore prende i vagoni richiesti dalla sua riserva personale e li posiziona sulla linea che ha reclamato. Se la linea ottenuta è dello stesso colore della compagnia del giocatore allora questo attiverà l'effetto della sua carta bonus della compagnia e otterrà due monete prese dalla riserva. Inoltre se almeno in una delle due città che è collegato vi è una grande città ovvero un'icona con questo simbolo allora pesca subito una carta dal cima del mazzo treni. Come presto noterete alla fine del manuale controllare una linea all'inizio della campagna porta giusto alcuni benefici ma poi proseguendo con la storia sbloccherete un sacco di nuovi effetti e benefici. Una volta che il giocatore ha effettuato la sua azione tocca al prossimo giocatore in senso orario. La partita termina quando nella riserva personale di un giocatore sono rimasti da 0 fino a 2 vagoni. Quando questo succede tutti i giocatori incluso chi ha fatto scattare le condizioni di fine partita hanno un ultimo turno da giocare. Conclusa la partita si passa al conteggio finale e ogni giocatore riceve una cedola bancaria. Su questa cedola andranno scritti i punteggi di fine partita e nella prima riga segniamo le monete possedute, nella seconda i bonus per i vagoni rimanenti e per vedere quante monete il giocatore ha ricevuto basta controllare la tabella sulla cedola stessa, ad esempio il giocatore blu con due vagoni ha ricevuto 9 dollari e infine devono annotare il valore di tutti i biglietti nella loro mano. Se il biglietto è stato completato è un valore positivo mentre se non è stato completato sono monete che vengono tolte al punteggio. Per poter completare con successo un biglietto il giocatore deve fare una linea di propri vagoni in modo che le due città indicate siano collegate con i propri treni, ad esempio in questo caso le due città non sono collegate mentre in quest'altro sono state collegate. Non è importante la lunghezza del percorso o le strade che prenderemo, l'importante è che queste due città siano collegate con una serie di vagoni, ad esempio anche in questo caso il giocatore ha completato il biglietto. Tranquilli che il massimo che otteniamo sono 0 dollari, in sostanza non si può andare in negativo e il vincitore della partita è colui che è riuscito a ottenere più dollari rispetto agli altri. In caso di pareggio vince colui che ha completato più biglietti e in caso di ulteriore pareggio vince il giocatore che ha giocato per ultimo in ordine di turno. La partita è ufficialmente conclusa ma adesso dobbiamo sistemare la campagna. Innanzitutto la carta primo giocatore viene data a colui che è arrivato per ultimo e poi colui che ha appena ricevuto la carta controlla tutti gli eventi in questa pila ovvero quelli rivelati e decide di ritirarne uno. Poi si torna nuovamente sul mazzo storia e si risolve l'effetto della carta pausa e tranquilli per non rovinarvi la sorpresa non vi dirò cosa si cela dietro questa carta. Infine la cedola bancaria che abbiamo appena ottenuto viene inserita nello slot cavo nel nostro box compagnia. Adessi i giocatori devono decidere se fare subito un'altra partita oppure rimettere a posto e giocare successivamente. Se i giocatori decidono di rimettere a posto sappiate che nel cavo vengono messi solo gli elementi che poi verranno rivelati alla fine della campagna mentre nell'altro spazio vengono messi tutti i componenti che torneranno già dalla successiva partita ad esempio la carta bonus della compagnia o il primo giocatore e poi una volta che abbiamo conservato tutto rimettiamo i biglietti ai treni sui divisori corrispondenti nel deposito alcuni sblocchi che otterremo durante la campagna e che riutilizzeremo nelle partite mentre nell'ufficio ritiri vengono posizionate le carte che sono state eliminate dalla campagna. Infine nel divisore delle carte evento lasciamo tutte le carte evento ancora in gioco mentre nell'ufficio postale troveremo le varie cartoline. Mi raccomando non sbirciate il contenuto di queste carte né cambiate l'ordine poiché saranno degli sblocchi che otterremo durante la campagna. Una volta sistemati tutti i divisori posizioniamo il mazzo della storia su questo spazio. Una volta messi a posto tutti i restanti componenti finalmente possiamo andare a richiudere la scatola e risistemarla per come l'abbiamo trovata. Fatto ciò adesso siete pronti per iniziare la vostra prima partita. Finito con il tutorial arriviamo infine alle mie impressioni su Ticket to Ride Legacy Legend del vecchio West. Sono piuttosto contento per due motivi il primo che nel canale non ho mai portato un gioco della serie Ticket to Ride mentre il secondo se la memoria non mi inganna è che non ho nemmeno mai portato un legacy. Partiamo dunque proprio da questo aspetto così vi posso dire un paio di cosette. La prima è che secondo me il bello dei giochi legacy è modificarli permanentemente però tranquilli che con un po' di ingegno e altri strumenti si può fare in modo che il gioco non venga intaccato. Inoltre una volta conclusa la campagna formata da 12 partite il gioco può essere rigiocato all'infinito poiché il risultato della partita finale della campagna farà sì che avremo comunque un Ticket to Ride che potremo rigiocare. Quindi non si esaurisce al termine della campagna anche se secondo me il bello sta tutto lì e poi volendo potete continuare a giocarlo. Detto questo allora io non sono un grande amante di Ticket to Ride ne riconosco i pregi però secondo me questa versione legacy eleva il vecchio gioco che è un buon gioco ad un ottimo gioco. Infatti la campagna inizia in modo molto tranquillo con giusto qualche variazione rispetto al gioco base e poi man mano procedendo il gioco andrà a risplendere sempre di più creando dal mio punto di vista la migliore versione di Ticket to Ride esistente. Per quanto riguarda la componentistica senza farvi spoiler vi dico che alcuni elementi li dovrete distruggere o comunque andare a danneggiare però dal punto di vista della quantità dei materiali e della qualità hanno fatto davvero un lavorone specialmente per quanto riguarda l'inserto che riesce a conservare tutto senza problemi e nasconde delle sorprese davvero gradite. Qualcuno avrà sicuramente da ridire sul prezzo però se contiamo che la campagna si basa su 12 partite giocate più l'eventuale finale che è rigiocabile all'infinito allora dal mio punto di vista ci sta tranquillamente. L'ambientazione è abbastanza sentita non tanto per le meccaniche che comunque proseguendo nella campagna hanno cercato di tematizzare sempre di più ma anche per la storia che proseguirà. Invece spostandoci alle meccaniche purtroppo non vi posso fare spoiler ma sappiate che andando avanti con la storia di gioco e dunque la campagna lo renderete sempre più corposo profondo affascinante e anche intrigante. Non me l'aspettavo perché pensavo giusto qualche modifica qui e là invece man mano si va a costruire quello che sarà il gioco completo. Infatti le prime partite in particolare le prime due sono praticamente un tutorial. Per quanto riguarda l'interazione all'inizio può sembrare molto in diretta classica la ticket to ride ma anche qui proseguendo con i vari capitoli ci saranno delle belle sorprese. La longevità è data dalla lunghezza della campagna e anche dagli effetti e i benefici che ogni giocatore barra compagnia potrà ottenere e per quello che riguarda l'accessibilità stiamo parlando di un gioco family plus che guida man mano i giocatori all'aggiunta di tutte le nuove regole. Vi informo fra l'altro che nel gioco c'è il sistema del drop in drop out quindi la campagna può essere giocata anche da giocatori che sono mancati a partite precedenti o comunque potranno lasciare la storia prima della conclusione e sappiate che il gioco calcolerà dei punteggi fittizi anche per questi giocatori. Insomma un'aggiunta che non guasta e anzi molto gradita. Per quanto riguarda la questione dell'esperienza questa aiuta fino a un certo punto vista la semplicità del gioco e comunque le nuove regole che entrano man mano eppure sul fattore fortuna all'inizio vi potrà sembrare molto casuale perché le partite dipendono dalle carte che peschiamo non solo treno ma anche biglietti ma vi posso assicurare che anche qui ci saranno delle sorprese e la fortuna si andrà man mano a ridurre. Insomma il gioco diventerà sempre più controllabile e per quanto riguarda la scalabilità secondo me funziona bene in qualsiasi numero di giocatori anche se devo ammettere di preferirlo con un numero alto e per la durata dipende dal capitolo della campagna. I primi dureranno 20 massimo 30 minuti mentre quelli finali arriverete anche a un'ora e mezza. Comunque in tutti i casi nulla di eccessivo e infine per quanto riguarda la dipendenza della lingua il gioco è carico di testo ma comunque Asmode Italia lo ha localizzato in italiano quindi non vedo problemi. Insomma da non amante dei Ticket to Ride questa è stata veramente una sorpresona però d'altro canto devo ammettere di essere un amante dei Legacy. Hanno fatto davvero un lavorone su praticamente tutti i fronti con questo Ticket to Ride. Longevità, profondità, fortuna, meccaniche, l'inserto, la componentistica, addirittura l'ambientazione e dunque per quello che riguarda il mio pensiero io lo promuovo a pieni voti. Quindi siamo arrivati alla fine del video fatemi sapere un pochettino cosa ne pensate dell'aspetto Legacy se vi è piaciuto di più rispetto agli altri Ticket to Ride se avete apprezzato il tutorial concordate con la mia recensione fatemi sapere commentate qua sotto vi ricordo inoltre di iscrivervi al canale così da rimanere aggiornati su tutti i contenuti che usciranno e non dimenticate di attivare la campanella. Vi ringrazio tantissimo per aver visto il video e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!